Wow, fantastico! Uno, due, tre... Glitter is the slime's best friend! Ciao Susan! Ciao Sammy, ma sei letteralmente brillante oggi! Lo so, guarda qui, sono tutto ricoperto di lustrini! In effetti mi ricordi qualcuno? Un pesce? Non esattamente! Una sirena forse? No, ma ci sei andato vicino! Volevo mostrartelo più tardi, ma sembra che dovremmo farlo oggi! Mi stai spaventando, dovremmo fare che cosa? Oh, ti piacerà! Andiamo! Ok! Ok Susan, dove mi hai portato? Oh, sei già qui? Ciao ragazzi! Guardate il nostro unboxing di oggi! Ah, sono così emozionata! Pensate che a Sam mi piacerà tantissimo! Non voglio più aspettare che cos'è questa roba fa vedere! Oh, ma è una serie di nanana surprise! Sì, ed è una collezione speciale a tema marino piena di brillantini! Sei pronto a toffartici dentro? Sono sempre pronto, soprattutto con le bambole nanana! Ehi, l'ho trovata! È Jolly Cat! Penso che troveremo un pirata qui! Devo prepararmi per lei! Dov'è la mia benda? Wow, questa serie è il paradiso dei brillantini! Anche questo sacchetto è bellissimo! È un peccato strapparlo! Ma Siu, non abbiamo spacchettato bambole nanana per così tanto che hai dimenticato come si fa? Oh, dammi solo un secondo! Ecco la nostra cannuccia di plastica! Vuoi bere qualcosa, Siu? Ogni pirata ha la sua bibita preferita, suppongo! Adesso che ha una cattiva memoria, è una cannuccia che puoi usare per far scoppiare il sacchetto! Oh sì, giusto! Oh no, Susan, corri! È ora della festa marina! Ciao, signor pinguino rosso! È così adorabile e luminoso! Sembra che voglia dirci qualcosa! Ha detto, guarda dentro, ha una sorpresa per te! Se lo dici tu, tesoro, che cosa nascondi qui? Ehi, Siu, guarda qui! Io so già chi è! Anch'io! È una ragazza pirata dai capelli rossi! Benvenuta a bordo, capitano! Come si chiama? Ragazzi, vi presento Becky Buccaneer! Yo ho ho! La mia vita è tutta una festa! La sua benda sull'occhio è molto più elegante della mia e guardate il suo costume da bagno! Anche i pirati si intendono di moda! Vestiamola! Non dimenticarti gli stivali! Wow! Wow, ma anche una gamba di legno! Ha sicuramente avuto delle avventure in passato! Forse un giorno ce le racconterà! Oh, le terrasse great! Ma tutto quello che so è che ha bisogno di amici, quindi spacchettiamoli! Io ne ho uno! Ora abbiamo una coppia di pinguini! Oh, troveranno qualcosa in comune! Vediamo chi c'è dentro questa borsa! Siu, pensi che sia un altro pirata? Ragazzi, date il benvenuto al nostro ragazzo! Ogni serie nananane ha uno! Ehi, è fan dei pinguini! Guardate il costume da bagno! E adora rilassarsi nelle acque gelide! Forse viene dall'Antaride? Vestiamolo prima che prenda freddo, allora! Non perdiamo tempo! Wow, questo bellissimo ragazzo ama l'abbigliamento sportivo! E i colori bianco e nero, un classico alla moda! Ecco la sua giacca! Sta fermo! Fatto! E questi sono i suoi carinissimi stivali bianchi! Vuoi trovarli? Ecco qui! Avanti, bello! Fatti vedere! Ciao ragazzi! È pronto per incontrare un amico! Becky, questo è... Lui è Andrea Valanche! Il suo compleanno è il 25 luglio, lo so per certo! Dovreste andare d'accordo, dammi il 5! Ehi, sembra che abbiamo un burlone qui! Stai parlando di me? Non ho fatto niente! Ah, Sammy, sei sempre in mezzo! Aiutami a scegliere la prossima bambola! Bene, è ora di aprire la scatola con l'immagine dell'ancora! Vediamo stavolta che c'è all'interno! Sammy, tu che ne pensi? Non sono un indovino, Sue, ma spero sempre di essere fortunato! Sembri abbastanza sicuro, vorrei avere la tua autostima! Meno chiacchiere e più azione! Oh, lo farò scoppiare da solo! Qual è il problema? È il tuo turno! Davvero? Ricordo l'hai detto tu stessa, eh? Wow, è un'enorme esplosione di brillantini! Ah, ciao piccolino! Sei così splendente! Puoi parlarmi della tua routine mattutina? Sue, Becky e Andre stanno aspettando il loro nuovo amico! Sbirciamo dentro la borsa! Tu vuoi vedere soprattutto la bambola, ammettilo! A proposito, qual è il significato delle orecchie da coniglio? Sono il mio portafortuna e comunque anche la scatola ha le stesse orecchie! Vediamo se ti vanno bene! Ciao, Marinaretta! Il Blue Navy ti sta benissimo! Ciao, cara! Io sono Samuel! Perché non abighiamo insieme in questo mare? Sammy, ti presento Sailor Blue! È quella che aspettavi, vero? Eh, non proprio, ma Sailor Blue è così affascinante, quindi non sono deluso! È vero! Ragazzi, piace anche a voi? Vediamo che vestito ha! Hanno cominciato a piovere vestiti da marinaio, Susan! Scusami, non volevo! Vediamo come le sta questo abito! I capitani dovrebbero stare insieme! Becky, ti presento! Sembra quasi forse troppo emozionata di vederla! Sì, la sua carineria ha decisamente esagerato! Riesce persino a camminare sul ponte con i tacchi alti! È forse la sfida del secolo tra i capitani! O forse resteranno migliori amiche per sempre! Voi cosa scegliereste, ragazzi? Eeeh... Mi piacerebbe vedere una competizione amichevole, ma abbiamo ancora tre bambole qui! Sì, e forse saremo anche fortunati! Nessun portafortuna questa volta! Farò un altro tentativo, aspettami! E come faccio a farlo scoppiare senza la cannuccia? Niente brillantini questa volta, vediamo chi è! Sì, il mio portafortuna ha funzionato! Ma ha i capelli rosa, eh? Oh, per tutti i tibi d'aba, è una coda! E Marina Jewel, spiacere di conoscerti! Semi, è l'unboxing, scusa! Ehi, ho fatto veramente il giro! Sembra che la corrente Marina ti abbia riportato qui! O forse Marina voleva i suoi accessori! Porta anche lei gli occhiali! Guarda le perle sulla montatura! E ha non uno, ma ben due abiti! Questi top sono fantastici! Sono Marina! E vivo in fondo al mar! I suoi accessori sono i migliori! Mettetele un like! Semi ha trovato un linguaggio comune per parlare con le creature marine! Tranquilli ragazzi! Marina insegnerà anche a voi il linguaggio dei pesci! Sono rimaste solo due bambole, chi saranno? Ci vediamo tra poco! Ehi, da dove viene questa? Pensavo che non l'avresti notata! Diamo il benvenuto alla nuova fantastica amica! E chi ha portato con sé? Non riesco a vedere! Ehi, guarda i suoi capelli giallo brillante! Quack quack! Ha anche un impermeabile! Sì, ma non puoi indossarlo sul costume da bagno! Oh, grazie Marina! Sembra che il vestito sia stato portato via dalle onde! Vestiamola subito! Oh, ha degli anatroccoli sul costume! Che carini! C'è così tanto giallo! Qui il suo nome dovrebbe essere qualcosa legato al sole! Mi ha segretamente detto che il suo nome è Daria Daki! Ha anche senso! Ecco, il suo anatroccolo non vuole star da solo! Daria è così felice di vederlo! Oh no, non possiamo bagnare i suoi bellissimi piedi! Uno slime è qui per salvarla, signorina! Ecco i fantastici stivali di gomma! Giusto in tempo, Sammy! Guardate quanto sono carini, ragazzi! Imparate a conoscerla, ragazzi! Perché quando pioverà, Daria sarà l'unica sul ponte! Ah? E perché? Perché lei è l'unica con l'impermeabile! Ma anche Marina può unirsi a lei! Non ha certo paura di bagnarsi! E anche questa bambola potrebbe non averne! Sulla scatola c'è il simbolo del delfino! Questa è l'ultima della serie, ragazzi! Sono un po' nervosa! Chi troveremo dalla borsa con i lustrini dovrebbe essere sicuramente un delfino! Ragazzi, pronti con le scommesse? Avrà ragione Sammy o no? Andiamo! L'unboxing è la mia specialità! Accidenti! Mi hai spaventato! Non sono io! Sono i brillantini! Ed ecco la nostra borsa! Avevi ragione! Wow! È un raro delfino rosa! Guardami! Qua abbiamo gli stessi colori! Forse anche questa bambola ha qualcosa di rosa! Vediamo! Aha! Aha! Ehi, Sio! Mi ha detto che si chiama Crystal Splash! Wow! E adora nuotare! Guarda il suo costume da bagno sportivo! E viene dalle Hawaii! Questa bandana dice aloha, bitches! Ma Sammy è una minigonna! Però hai ragione! Lei vive dove c'è il sole e dove c'è caldo! Nuota anche coi tacchi alti! Non ho mai visto delle pinne per i piedi come queste! Dove sono? Non riesco a vedere niente! Lascia che ti aiuti! Molto meglio! Grazie, Sammy! Dove ho messo quelle pinne per i piedi? Sì, le ho persi! Sta tranquillo! Le ho prese io! Solo il tocco finale... Ah, quanto sono carine! È pronta per le immersioni coi tacchi alti adesso! E voi siete pronti a conoscere la squadra marina al completo? Andiamo! E avanti a conoscere la squadra! Ciao! Ragazzi, questa è la prima lezione di nuoto Seguitemi Facile, facile Uno e due Non trattenete il respiro E questo è lo stile farfalla Persino Marina non potrebbe fare di meglio Sei fantastico Davvero? Ho fatto del mio meglio Molto presto faremo un viaggio insieme in mare Ragazzi, spero vi sia piaciuto l'unboxing di oggi È stato divertente? Sosteneteci con un pollice in su e iscrivendovi al nostro canale Ci vediamo!